le tue schiave stanno comportando bene non va bene così non va bene e poi chi mi vuole lavare i piedi e bisticciano per chi mi vuole lavare i piedi è un casino bisticciano tutte la crema Grazie a tutti 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 Vai Con quelle? Grazie a tutti 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 No, 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 devi farlo Poi vedrai al prossimo giro Sentirei la differenza Ah, bollente Adesso si, adesso si, adesso si, pensa a me Pensa a me Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Guardate a tutti Grazie 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 a tutti